La guerra in Ucraina è un po' un pugno nello stomaco per la nostra riflessione sull'ordine mondiale, ma dobbiamo capirne il senso e ci hanno offerto la Cina e la Russia, dicendo che tutto questo è parte di una lotta per un nuovo ordine mondiale. E quali sono i principi d'ordine alternativi che si scontrano? Beh, da un lato il nazionalismo e l'idea di una sovranità nazionale degli stati più forti che si impone sugli stati più deboli. Una lotta di tutti contro tutti, la vecchia lotta di potenza. E dall'altro non può che esserci la condivisione di sovranità, una gestione cooperativa dell'interdipendenza mondiale per affrontare insieme sfide come la garanzia della pace o i cambiamenti climatici. Tutto questo ce l'aveva detto già Trump qualche anno fa all'Assemblea generale dell'ONU, dicendo che il mondo sarà dei patrioti e non dei globalisti, perché allora gli Stati Uniti di Trump erano schierati con le forze del nazionalismo. Bene, il lesito di questo grande scontro di questo nuovo ordine mondiale non è affatto scontato e dipende da ciascuno di noi e si combatte in molti modi, in molte parti. È quella terza guerra mondiale a pezzetti di cui parla Papa Francesco. In Ucraina Putin pensava di ottenere una facile e rapida vittoria e non è stato così, ma al contempo nel weekend scorso abbiamo perso due battaglie in Europa con le vittorie delle forze nazionaliste in Ungheria e Serbia. Fra pochi giorni ci saranno le presidenziali francesi, l'anno prossimo le elezioni in Italia e Polonia, nel 2024 le presidenziali americane. Tutte tappe di questa grande battaglia mondiale per un nuovo ordine, per decidere se come umanità vogliamo gestire insieme i nostri problemi oppure se vogliamo che le forze nazionalismo trionfino in una lotta di potenza di tutti contro tutti che può portare solo nuove guerre.